Guardia alta sul mondo della scuola a Sala Consilina, una classe delle medie del centro storico è tornata in dad dopo che il padre di un alunno è risultato positivo. Si tratta di una decisione assunta per precauzione dalla scuola stessa. La positività dello studente infatti non è ancora emersa e solo qualora dovesse essere realmente accertata scatterebbero i controlli e le quarantene per l'intera classe. Né d'altra parte l'unico caso a Sala Consilina ci sono anche altri due genitori risultati positivi. Uno è i figli che frequentano le scuole a Sant'Antonio e un altro quelle di Fonti. Ma al momento non è emersa la positività dei bambini e dunque non è scattato il protocollo. Di certo il nodo scuole resta centrale nella gestione della pandemia anche sul territorio. Ad Auletta e Sant'Arsenio le scuole sono chiuse dopo che sono aumentati i contagi nei due paesi. A Sanza sono ripartite invece oggi dopo che si è scelto lunedì di effettuare lo screening scolastico e tutti i 209 tamponi effettuati sono risultati negativi. A Montecorice le lezioni in presenza non ci saranno invece fino a fine gennaio dopo che un padre e il suo figlio che frequenta la scuola sono risultati positivi e dopo che ad essi si è aggiunta anche una terza persona a loro contatto contagiata dal covid. La prensione dunque resta circa la ripresa delle scuole e i genitori sono divisi tra chi teme un peggiorare della situazione sanitaria e chi gioisce di questo ritorno alla normalità. Di certo il primo banco di prova per le medie ha fatto registrare un po' ovunque assembramenti, file che hanno fatto subito intervenire il presidente della regione Campania. Si invitano i sindaci a comunicato De Luca in una nota stampa a predisporre mirati servizi di controllo da parte della polizia municipale in particolare nelle fasi di ingresso e di uscita degli studenti dagli istituti scolastici. L'unità di crisi ricorda che occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione generale deve invitare assolutamente tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza.